buongiorno buongiorno qui il capitano mannaccia mannaccia cosa farai oggi entrai bene? metterete qua ricoglionito capitana spinosa oggi mi spacco il culo e sento faccio una foto eh 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 AH méh eh 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 luca la foto ecco qui il padre di pila che sta facendo con noi Uno due e tre vai pilli sto scatta pilli allora allora secondo te oggi come andrà bene l'asciuto staccato èatò un po' umido ora provammo vedi un po' penso a quelli Oh ragazzi, non c'è ancora lo scaldacombe, il sorroso del cazzo. Oh, c'è una tonata, un pennata. Allora, sul... Allora, caro Pilli, cosa ci dici di questa esibizione qui a Sagittario? Ecco, devo iniziare, fammi entrare un attimo. Stiamo a fare le cose. Adesso, stiamo aspetta... C'è un culo con l'Eco. Dai, ci fai un pennata, sì, appena entri. L'R6 Caro Pilli, quanto ci manca? Stacco le sangue. Oh, B. B. B là. non fa troppo lunghi video non fa troppo lunghi video facci sentire il rombo della tua facci sentire il rombo capottone pregara